Caldo, sei caldo, quindi ti copri, va bene così. Andrea! Andrea! Dai, attaccalo, attaccalo! Sento le gambe, Andrea. Attenzione, prego, cintura viola, peso massimo, master 2, Massimiliano Dandini, atteso al polio, grazie. Bravo, bravo! Tienilo, tienilo, Andrea, tienilo! Dai, dai, che ce l'hai! Bravo, bravo, Andrea, stai lì, controllalo! Cerca di... Tienilo, Andrea, tienilo! Tienilo giù, Andrea! Dai, dai, dai! Ultima chiamata per Giulia Padalamet. Ultima chiamata Giulia Padalamet. Al peso. Andrea, respira che sei in vantaggio. Dai, dai, che ce l'hai, buttati, buttati! Attenzione, non farti portare giù, Andrea. Giulia Padalamet, mezz'ai, disqualificata. Bravo, bravo! Vai, controllalo! No, Andrea! Mettiti la guardia, subito, mettitela! Bravo! Tienilo, Andrea, tienilo! Dai, che ce l'hai! Non fatti passare! Dai, Andrea, hai un vantaggio, eh! Non farti portare in terra, vai alla schiena! Allora ho perso! Alzati, Andrea, alzati! Sì, sicuramente che è stanotte, non riusci sempre! No, è possibile! Bravo! Ha perso! Attenzione, prego! Cintura viola, peso leggero, adulto, Valentina Polo e attesa al podio, grazie! Bravo, vai, vai, vai! Se c'è il triangolo! Tira! Tira come una bestia! Tira! Attenzione, prego! Cintura viola, peso, medio massimo, master 1, Stefano, Mungu, Mungu, Naini, attesa al podio, grazie! E' un vantaggio, ma è un vantaggio, ma sono pari! Dai, Andrea, mettici! Dai, dai, che lo finaliti, dai! Tira, tira! Se tu hai la gamba sotto è libera! Dai, che ce l'hai! Sei pari, Andrea! Ce l'hai, Andrea! Non mollare il triangolo, Andrea! No, no, no! Non mollare il triangolo, tienilo lì! Dai, dai, che c'è! Bravo! Grande, grande, grande! E' un vantaggio, non mi sono risultato un anno. No, no, no! Eh, cazzo, è un vantaggio, ma l'ho dato... Eh, vabbè, gli hai finalizzato. Grande, Andrea! Ci c'è!